Che passa, chicas? La canzone non le è giusta? No, Andres, si è piaciuta tantissimo. Il discorso è che anche noi ragazzi abbiamo la nostra canzone. Sì, Andres, e anche noi vogliamo cantare. E il pubblico vuole sentire la mia voce. Tocca a noi, ragazze! No, 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 ragazze, non potete, manca qualcuno. Manca Violetta, dov'è? Sono qui! Ese sentimento, sensazione, piena di ilusione. Siento la alegría, che mi provoca questa canzone. Oye mi corazón, come un bel acelera quando il pubblico espera. No, nada mi va a parar. Non subi il tracelo, chicas? Comienza la musione. No se trope. No, no, no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.